Ciao, spero che il ventilatore è là in fondo, molto in fondo, non vada, non entri troppo nel microfono, anche se qualcosina temo che si sentirà. Ciao, sono Matteo, io produco podcast per lavoro, per i miei clienti e per chiunque mi chieda almeno un preventivo, puoi andare su scandal.in e trovare tutte le informazioni su tutti i progetti a cui ho lavorato, se mi sono ricordato di aggiornare il sito ti chiedo scusa fin da adesso se non l'ho fatto e poi insegno anche a effettivamente realizzarli questi podcast. Siamo a luglio e ho deciso come forse hai visto dal video precedente e se non l'hai visto non importa, sei qui adesso, che a luglio farò tutta una serie di brevi tutorial, tanti piccoli brevi tutorial per utilizzare FairWrite. FairWrite è un software, andiamo a vederlo, questa è la schermata principale del mio iPad, FairWrite è un software di editing audio, molto molto bello, semiprofessionale mi verrebbe da dire, per effettivamente andare a lavorare l'audio in mobilità, è molto molto comodo, sono più o meno, è da quando ho comprato questo iPad, quindi ottobre 2020, questa è l'era del 2020, che dico, ah ci picchia, devo assolutamente imparare a usare FairWrite perché mi può sempre servire, perché è comodo, magari posso evitare di portarmi dietro il portatile, almeno per sgrassare le tracce e via dicendo, non l'ho mai fatto, mai fatto, allora questa è una scusa, obbligarmi a fare i video per te e per tutte le persone che mi stanno guardando in questo momento è una scusa in realtà per me, per imparare a utilizzare FairWrite, due cose, la prima è che senza una Apple Pencil, che sia la seconda generazione come quella che ho io, che è quella magnetica che fa tac, vedi, fa proprio tac, bello che mi vedi nel cosino piccolo, ma comunque, prima o seconda generazione non importa, ma utilizzare FairWrite con le dita è possibile, lo scopriremo insieme, lo vedremo insieme, ma è consigliatissimo utilizzare l'Apple Pencil, appunto che sia la prima o la seconda generazione. La seconda cosa è che FairWrite comunque, scusatemi, FairWrite comunque costicchia un pochettino, se andiamo sull'App Store, vedete, avevo fatto una ricerca prima, FairWrite viaggia sui 30 euro circa, 29,99, secondo me li vale tutti, però puoi scaricarlo senza, per forza di cose, andare a pagare quei soldi, questa è l'interfaccia principale di FairWrite, l'interfaccia che ti accoglie, diciamo così, di FairWrite, lo puoi usare benissimo senza spendere quei 30 euro, lo provi un attimo, vedi un po' come ti trovi e poi eventualmente effettivamente fai questo investimento, come vedi ti permette anche di registrare utilizzando il microfono dell'iPad, che è una cosa molto comoda che può tornare effettivamente comoda in diverse situazioni, andiamo a fare una prova, andiamo a toccare l'icona del microfono e a registrare, adesso io non mi ricordo esattamente da che parte sono posizionati i microfoni dell'iPad, il gatto farà uno zompo sul tavolo, eccolo, quindi sentiremo anche le sue zampine, adesso vediamo anche la codina, interrompiamo, andiamo a risentire, si è creata la traccia come vedi, andiamo a risentire la registrazione, toccare l'icona del microfono e a registrare, adesso io non mi ricordo esattamente da che parte sono posizionati i microfoni dell'iPad, il gatto farà uno zompo sul tavolo, eccolo, quindi sentiremo anche le sue zampine, adesso vediamo anche la codina, interrompiamo, ecco questa era la registrazione, ovviamente adesso la cancello, come dice la possibilità che rimanga un cestino con tutte le registrazioni che hai fatto, io le vado a cancellare, la selezione, la selezione, la selezione tutto e le elimina, le elimino definitivamente, pesavano molto molto poco, però comunque a me ne interessava, e abbiamo già un pochino visto come si comporta l'interfaccia generale di Ferrite, tutte queste cose, le impostazioni, le, non lo so io, il volume del microfono, il volume del microfono, tutte queste cose andate qui, le andiamo a vedere piano piano nei vari video che farò nelle prossime settimane, adesso io torno fuori dalla schermata di Ferrite, torno anche alla mia camera, la cosa che devo ricordarmi di fare in questi video è effettivamente che la schermata principale mostra l'iPad e il pallino tondo mostra la mia facciona e quindi dovrò ricordarmi di gestire bene le camere, adesso metto in carica l'Apple Pencil e ci vediamo al prossimo video, ciao, 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 bacio